Ok, benissimo, grazie. Ben arrivati, sono in arrivate. Non avevo ancora visto così tante persone, invece come vi rende la sorpresa ancora più bella, perché inaspettata, quindi felicissime di avervi qua. Artemisia non è solo a Diana Garrone, ma abbiamo altri docenti, vi presento Maria Teresa Cravero, docente Artemisia, Simona Ferrari, anche lei docente Artemisia, Marina Michelon, anche lei docente Artemisia, e Federico Boero. Spero di non aver simenticato nessuno, online c'è Laura Colombo che partecipa più con il cuore che fisicamente, perché aveva il mal di gola, quindi oggi non riesce a esserci, è sempre un momento estremamente emozionante, la tesi di Artemisia, ci sono normalmente due sessioni all'anno, ce n'è una primaverile e un'autunnale. È sempre un momento emozionante, perché le persone hanno sviluppato una loro consapevolezza, una loro autonomia, un'efficacia, soprattutto un senso di responsabilità. Essere counselor, prima di tutto, significa essere counselor di se stessi, per poi imparare a saperlo fare con le persone intorno, non significa quando si è counselor non avere problemi, non avere ansia, non avere difficoltà, ma significa avere degli strumenti per poter, io dico, pagaiare meglio nel fiume della vita e dell'emozione. Quindi questa sera, passo sullo sfondo, perché la serata è di Rosy, Simona e Daniela. Non so chi inizierà prima di voi. Rosy, va bene, allora, prego, passo sullo sfondo. Grazie a tutti.